Novità importanti all'orizzonte per il Castello Cinquecentesco dell'Aquila e di conseguenza per il Museo Nazionale d'Abruzzo. Entro l'estate infatti il quarto centrale del Forte Spagnolo, ossia quello di ingresso, dovrebbe tornare nella disponibilità del Munda. Con la chiusura dei lavori prettamente edilizi e dopo il collaudo, potrebbero a quel punto partire le operazioni di allestimento degli spazi riconsegnati. E questo porterebbe come positivo effetto domino la possibilità di ampliare il ventaglio dell'offerta delle opere visitabili al castello, ossia in quella che prima del sisma del 6 aprile 2009 era la sede storica del Museo Nazionale d'Abruzzo. Come sapete gli attori qui in campo sono diversi, c'è il museo, c'è il segretariato regionale, c'è USRA. Quindi ci sono i lavori edili che il segretariato regionale dovrà chiudere adesso con il collaudo e che il Munda ha aiutato perché abbiamo fatto gli allacci, funziona il gas, quindi comincerà questo collaudo degli impianti. Poi dopo quando verrà consegnata questa porzione, parliamo del quarto centrale, insomma il quarto d'ingresso, in quel momento si potrà cominciare a lavorare per l'allestimento. Ovviamente il progetto di allestimento lo ha fatto il museo ed è stato fatto, sono stati scelti gli arredi, le tipologie di esposizione grazie al progetto che avevano fatto Guicciardini e Magni e adesso invece viene dato ad USRA il compito, e lo sapete ha fatto la gara per l'acquisto di queste forniture, per la realizzazione di queste teche. Non so se riusciremo in estate, sicuramente entro il 2024 sì, perché insomma non c'è nulla che osta a meno che il collaudo non dia problemi. Grazie.